Io rispondo dei miei comportamenti, tanto per essere molto chiari, dei comportamenti della società che governo, non posso rispondere dei singoli comportamenti. E come ha detto il Ministro Salvini, la responsabilità è personale, quindi ognuno si assume le responsabilità del proprio comportamento. E se io oggi sto qui, sto qui proprio per evitare che succedano dei comportamenti fuori dalle regole e sto cercando di inculcare, l'ho detto prima, ai piccoli, fin dai piccoli, che il tifare una squadra del cuore deve avvenire nel rispetto delle regole. Come vincere deve avvenire nel rispetto delle regole nel senso trovare scorciatoie. Io con tutto che sono il Presidente della Lazio non è che posso rispondere del singolo tifoso, anche perché io ho tifoso, ho appassionato, ho pseudotale, perché per me i tifosi sono quelli che in modo, tifoso significa appassionato, colui che partece in modo passionale, emotivo, empatico, alle gioie e alla vita della prima squadra del cuore nel rispetto delle regole.